Franci! Franci! Vieni! Senza bagnarmi! Senza bagnarmi! Dove siamo? Siamo in cucina! Ah ecco! E dov'è la Bea? Adesso scende là! E' qua, è qua, è già scesa! Sì, qua, qua! Adesso dove siamo? All'acqua di Burago! Sì, allora, volete andare su? No, dov'è fare la ciale! Anche se è un mercoledì, guardate quanta gente c'è all'acqua di Burago! Ragazzi! Zitto, che ragazza? Aspetta Franci, aspetta! Non si vede niente, però vabbè! Guardate quanta gente c'è! Dicevi? Ragazzi, allora, oggi faremo la challenge! La challenge! Tu sì, ti fai il tuffo migliore di Bacca, papà, e tu devi votare! Io devo votare? Sì, allora, il primo tuffo è il tuffo della morte! Il tuffo io! Vai! Uffati! All'indietro! Non ti fare male! Guarda che non posso vedere! Guarda che lì, non mi sbagliare! Io vado là! Io ancora vado in giro! Aspetta! Vai! Io vado là! Eh! Ecco, Franci che scende! Grande! Franci e Bea! Vai! Cioè, ragazzi, è venuto in prossima volta! Aspetta! In prossima volta siamo in piscina, come si chiama? Il primo tuffo è il tuffo della morte! Sì, va bene! One! Two! Vai! Ma no così che la butti! Va bene! Vai, buttati! Sì, vai! Vai! Tanto sei vicino alla riva! Franci, devi... Franci cosa fai vedere? Che non sei capace tu farti? Eh! Che fiffone! Che fiffone! Che fiffone! Fiffone! Vai, tu fatti! Vai! Attento, non farti male! Vai! Vado! Vai! Dai, meno due, meno uno! Bravo! Adesso c'è il tuffo allo spragetto! Vai! Devi girarti senza più! No! Bravo! Aspetta che faccio un giro qua! Occhiale occhiale! Faccio un giro qua panoramico, faccio vedere gli scivoli! Lo scivolo dove siamo andati il mio figlio è quello dietro, che sarebbe quello azzurro! E questo qua giallo che è praticamente un... cos'è? Che è un tubo? Un tubo! Ok! Aspetta! Aspetta che faccio un giro! Aspetta, aspetta, aspetta! Di qua c'è anche un altro scivoli qua! Io c'ho il sole contro ma... Cosa c'è? Arrivo, arrivo! Arrivo, faccio un giro e arrivo eh! Ecco qua, eccomi qua, eccomi qua! Chi c'è? Vi girarti con me e faccio il tuffo dello spaghetto! Dello spaghetto? Sì, vi girarti! Cos'è il tuffo dello spaghetto? Piano, attenti! Bravo! Adesso c'è il tuffo... Della chitarra? No! Tuffo cattivissimo! Tuffo? Cattivissimo! Sì, ma attenti alle bambine! Quando c'è il tremo dobbiamo fare una risata! Tuffo spaghetto e tuffo... Cattivissimo! Eccolo qua! Questo è cattivissimo! Ehi! Guarda che ci sono i banini che fischiano qua eh! Arrivi! Arrivi! Ora faccio anche io e il tuffo cattivissimo! Vai Franci, vieni su! Nuota! Bravo! Adesso c'è il tuffo... Si! Ma vabbè... Guarda che c'è la ragazza, la bambina! Eh vai! Che tuffo era questo tuffo? Spider-Man! Spider-Man? Mamma mia! Ora tu con me! Che tuffo fai tu? Capitano America che lancia il suo spiro! Vabbè fatti male mi raccomando eh! Vai Capitano America vai! Eccolo qua! Ok ragazzi, ora facciamo il tuffo Capriola! Vai vai! Io non ce l'ho guardata! Capriola! Quella Capriola eh! Vai! Non farti male! Vai! Non farti male! Vai! Stai attento a non farti male! Tuffo Capriola! Va bene! Ok! Ragazzi! Andiamo a chiedere alla mamma se vogliamo prendere un gelato! Eh? Bimbi! Chiediamo alla mamma se vuole il gelato! Bea! Chiediamo alla mamma se vuole il gelato! Il gelato! Se volete prendere il gelato! Per farvi uscire dalla piscina andiamo a prendere il gelato! Va bene? Sì! Ok! Salutate gli amici per il momento! Tu ragazzi! Dici vediamo! Non passo! Ciao! Bea! Dai! Vieni fuori! Saluta! Saluta! Ok! Ok!